La nonna, a giocare il gioco. Ma che forte Sofia, ha fatto i ferri? Sì, non puoi capire. Ha la scarpita voluta. Ha quattro anni, lei pretende che a quattro anni questo è capace a fare i ferri. Gli ha regalato dei ferri piccoli così. Da sera, quando siamo tornati a mezzanotte, lei ha proprio i comitori, capirai. Siamo andate a casa, nonna mi fa i ferri a mezzanotte, io avevo gli occhi che mi avevano e quindi ho cominciato. Ha fatto tutto dritto, però ha quattro anni Esa, insomma deve capire come funziona e adesso sta continuando Giulia a farli lasciare per Tommaso, pensa giù. Te la farà con tutti gli spine dentro, non lo so. Esa, guarda che si stanno riprendendo e si sente anche l'auto. «Fie Spirit-me» �� e le beschäftige tippo! A presto! che ti cos'è